Innanzitutto c'è da fare i complimenti all'Atalanta per come hanno affrontato l'Europa League e di quello che stanno facendo, perché ormai l'Atalanta è una realtà del campionato italiano e ha dimostrato in Europa veramente di poter dire la sua. E dispiace che siano usciti come loro, come il Napoli, uguale, perché le squadre italiane si dovrebbero cercare di andare avanti in Europa, anche se è molto difficile. E quindi c'è dispiacere di queste due squadre che siano uscite. Domani l'Atalanta ha sicuramente la voglia subito di rifarsi e poi mercoledì ha un impegno dove ha la possibilità, come noi, di poter conquistare una finale. Quindi innanzitutto l'Atalanta è una squadra fisica, è difficile giocarci contro. È una squadra che ha fatto 10 gol su palle inattive, è una squadra che è quarta come duelle e eri vinti nel campionato italiano. È una squadra che gioca bene e quindi bisogna affrontarla nel miglior modo, dando grande pressione, dando intensità alla partita, perché domani è la prima di un ciclo che ci porta fino alla partita con l'Aspal prima della sosta. Grazie. Grazie. Grazie.